Logos Web Radio Come avete scelto il vostro nome del gruppo? Ecco, questo viene da una serata interessante Dopo una cassa di Moretti da 66 finita Perché dovevamo suonare la festa dell'unità di Crespellano Non avevamo ancora il nome del gruppo e venne fuori Segatura Budrio Che genere di musica portate e quali sono i vostri gruppi preferiti? Allora, noi siamo improntati sull'hard rock e la v-metal Diciamo che le cover che abbiamo fatto abbiamo portato un po' anche Delle cover di gruppi italiani come possono essere i Timoria e i Nomadi Però tendenzialmente le altre cover sono Misfit, Guns N'Roses E tutti gli altri gruppi stranieri, compresi Metallica e Iron Maid E il nostro gruppo preferito, che accomuna un po' la passione di tutti e cinque Sono i Dream Theater, che è un gruppo progresso in metal Che cosa è per voi la musica? E fare musica? Per noi la musica è tutto Noi quando siamo su un palco riusciamo ad esprimersi al 100% E speriamo di trasmettere le emozioni che proviamo noi alla gente che ci viene ad ascoltare La vostra musica è tutelata dalla C.A.E.? Assolutamente sì, noi tre anni fa facemmo una posizione C.A.E. che tutela le canzoni che componiamo noi Avete un sito, siete iscritti, qualche portale per artisti tipo MySpace, Facebook? Guarda, ti dico, noi purtroppo un sito internet o un link su questi social network non l'abbiamo Perché preferiamo che la gente venga ai nostri concerti e venga sotto il palco per prendersi i nostri CD Grazie Grazie a Segatura Budu per l'intervista, vi salutiamo e a presto Luca, Anneliese e Cristian vi salutano dal centro sociale di Ponte Samoggia Il servizio è stato realizzato durante il corso di web radio tenuto dalla redazione del Blogos per ragazzi del centro giovanile di Crespellano Grazie a tutti